Marrusso, finito il caffè, siamo scesi a Porsaiti. No, 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 non è proprio cosa. Capitano, questo fa l'ognorri. Eccolo qua. Chissà chi per me. Caffè Kimmo. Eh già, per te sì e per me no. Forse non aveva capito. E che parlo arabo. Uè, Abdullah, ci vediamo stasera. Kimmo, il caffè ti chiama il caffè.